Ciao a tutti i farmer, spero tutto bene. Oggi siamo qua insieme a Beatrice perché lo leggete nel titolo ci occupiamo di gatti, giusto? Esatto. Guarda, si stanno ambientando, siamo a casa di Beatrice in montagna, fantastico, prima siamo andati nell'orto del pollaio perché tiene le galline, giusto? Siamo andati a conoscere le mie pollastre. Perfetto, no, quello è bello. Noi ci siamo conosciuti al Poder Aperto, l'edizione quella autunnale, ho fatto varie domande, insomma, sulle galline, anche perché Beatrice è un tecnico veterinario, giusto? Esatto. E quindi è una che, insomma, li studia gli animali civili dal mattino alla sera e chiacchierando sulla problematica dei topi, un po' ti avevo accennato come volevo non usare più la strategia, quella chimica. Ok. Ne so che avete visto un po' nei vari video che ho fatto, ci sono tendenzialmente le due strategie, quella meccanica e quella chimica. Il problema grosso di quella chimica è l'avvelenamento secondario, se no. Esatto. Se dice così? Sì. Correggimi, eh. Cioè, visto che c'è comunque un ecosistema molto figo, secondo me, al podere, a volte non mi piace troppo perché ci sono anche le volpi, ci sono magari, non so, don... Donno, le faine, faine, eccetera, eccetera, falchetti o altro, se mangiano il topo avvelenato il rischio è comunque che ne risentano. Esatto. Un avvelenamento per vie traverse non è bellissimo, ovviamente. Anche perché certi prodotti è vero che dicono che non c'è nessun problema, sopravvivono, però magari, sai, comunque già in periodo invernale sono un po' debilitati, hanno molta fame, prendono anche qualcosa di avvelenato e non è il topo. Esatto. Quindi ci sono le trappole meccaniche che però vanno, come vi dicevo, cambiate continuamente, non sono, secondo me, la soluzione ottimale, quindi sono picchiato continuamente sul gatto io. Esatto, sì. Diciamo che mi sono proposta molto volentieri di aiutarti con questa soluzione, sperando che comunque vada a buon fine, senza ledere però sia al benessere dei piccoli amici topi, tra virgolette, che a quello dei nostri amici gatti, perché comunque il gatto tendenzialmente tende ad allontanare la colonia dei topi che, visti minacciati appunto dalla presenza di un predatore, dovrebbero tendenzialmente allontanarsi. Quindi è vero che il gatto uccide il topo, lo uccide giocandoci perché sono pochissimi i gatti che mangiano i topi, però tendenzialmente giocandoci e cacciandolo, quindi dando via al suo istinto predatorio, comunque allontana il topo. Quindi, diciamo, effetti collaterali zero. Guardate, su questa cosa qua, so che quando si tratta un po' di gatti, ormai è diventato un animale molto sedentario, molto domestico, quindi magari siamo anche noi un pochino più sensibili. Due cose molto importanti. La prima, stavo vedendo vari documentari, perché la prima sono informato, il gatto selvatico in Italia è a rischio estinzione, cioè perché non è un gatto domestico, è proprio un gatto... Un gatto selvatico, è una razza sua. È in estinzione perché allevando continuamente gatti doestici, randaggi o altro, praticamente si sta, non c'è più la razza pura. Quindi ne stiamo perdendo. Questa qua è veramente qualcosa, secondo me, di brutto, nel senso che è una delle specie proprio del bosco, di cui erano veramente ricchi i nostri boschi. Dall'altra parte è l'azione del gatto, cioè già dagli egizi era proprio una divinità, era venerato il gatto, perché gli egizi famosi proprio per i granai andavano a uccidere i topi, cioè nella fattoria il gatto è proprio un animale importantissimo. Ma anche il cane stesso, cioè gli animali da sempre hanno, diciamo, imparato a coesistere e a convivere con l'uomo. Diciamo, un tempo non si guardava molto al benessere dell'animale in sé per sé, però anche il cane che comunque faceva la guardia o radunava le pecore, comunque ogni cane ha un'attitudine. Così come il gatto è un animale che tranquillamente può convivere con l'uomo aiutando l'uomo stesso nelle sue mansioni lavorative, che possono essere di campagna piuttosto che conviviali, insomma, in casa, quindi giardino, tenendo lontani i topi. Quindi perché no? Perché non sfruttare, tra virgolette, senza poi sfruttare nessun animale in sé per sé, le doti di un animale, esatto. Allora, precisiamo già subito, soprattutto perché c'è, le prendo già, questi qua sono i libretti vaccinazione, libretti comunque degli animali, perché comunque per quanto lo usiamo in esterna, se abbiamo un gallino o altro, questo non vuol dire che dobbiamo maltrattare l'animale o non dare le stesse attenzioni premura che daremo a un animale classico. Quindi sono due trovatelli, giusto? Sì, esatto. Ora, faccio una serie di domande, non so, le ho già fatte, in verità, sono già appuntate le cose proprio per capire come possiamo utilizzarli, quindi garantendo assolutamente il benessere massimo. Sì, esatto. Non so, subito libere così. No, esattamente. Allora, sono sicuramente i gatti trovatelli, quindi abituati a vivere per strada, abituati a vivere fuori, quindi non hanno timore dei pericoli esterni. Dovrebbero essere abituati in realtà anche al passaggio di macchine, però non è una cosa che compede il potere, perché comunque è un posto chiuso, quindi è anche recintato, quindi non c'è il passaggio e il via via delle macchine. Allora, sicuramente saranno chiusi e recintati in una piccola area per la prima settimana, per far sì che comunque si ambientino, conoscano gli odori, conoscano i tuoi orari in cui vai al podere, perché comunque ecco, vai al podere per controllare le galline e quindi controllerai anche loro. Ma anche le galline a questo punto devono conoscere, no? Esatto. Loro piano piano, nelle settimane successive, impareranno a conoscere le galline dalla recensione e avranno sicuramente necessità di una, sicuramente, lettiera dove poter espletare i loro bisogni, perché altrimenti il gatto, essendo un animale molto pulito, tenderà a scavare buche ovunque e a disotterrare poi i suoi bisogni, non vorrei che te le facessero nell'orto. Chiaro, quindi poi veniamo. Quindi lettiera, lettiera subito. Te la lettierò ogni quanto gliela cambio? Allora, in realtà la lettiera, essendo comunque una lettiera all'aperto, si sporcherà molto meno rispetto a una lettiera d'appartamento, perché i gatti, soprattutto loro, faranno i bisogni anche, diciamo, in giro, quindi nel prato o nel bosco, però tendenzialmente una volta al giorno si può pulire, anche meno, perché poi comunque sono solo due, quindi non sporcheranno eccessivamente. Sabbia, lettiera... Allora, in realtà le lettiere ce ne sono di tantissimi tipi, ti consiglio sempre sassolini, quindi di bentonite, che hanno un alto potere assorbente e agglomerante, quindi una volta che andrai a pulire la lettiera farai come per le galline, raccoglierai con la paletta lo sporco e rimarrà poi la lettiera pulita all'interno. Quelle stesse sono magari biodegradabili. Esistono delle lettiere biodegradabili, truciolo di mais, ma puoi usare tranquillamente della segatura. Una volta che il gatto ha imparato dove fare i bisogni, puoi usare la terra, la segatura, la farina di cocco, il truciolato, scusami, di cocco, quindi loro andranno a fare i bisogni ovunque vogliono. Questi sono i gatti, dopo ve ne facciamo vedere... hanno ribaltato, poi avranno necessità di sicuramente una ciotola d'acqua fresca sempre disponibile e del mangiare. Ovviamente non dobbiamo ingozzare i nostri gatti sia per la loro salute perché è deleterio nutrire il gatto ad libitum per evitare obesità, diabete, anche se in realtà loro vivono all'aperto, quindi corrono e saltano. E sicuramente alimento specifico per gatti sterilizzati perché sono già sterilizzate. Ecco, questa cosa qua è una parentesi, abbiamo scelto due femmine al posto del maschietto proprio per stabilizzarle più nel posto, giusto? Sì, sono tendenzialmente più tranquille le femminucce. E sterilizzate. Esatto. In modo tale che comunque sappiamo che non si crea una colonia, ma rimane comunque... Non vogliamo gatti randaggi, sono testate per le due malattie principali, FIV e FELV. Continueranno a fare le vaccinazioni per la FELV e per le malattie più ricorrenti nei gatti. Le terremo controllate contro i parassiti perché se un animale ha un parassita lo porta tranquillamente agli altri animali che sono le galline in questo caso. Quindi comunque useremo degli antiparassitari per ectoparassiti che sono i parassiti esterni, quindi pulci, zecche, acari e pidocchi. E per endoparassiti, altri non sono che nematodi, vermi, ascari, giardia e chi più ne ha più ne metta. Per capiamoci, il collarino che mi consigliavi è per i primi... Il collarino che ti consiglio è per tutti gli ectoparassiti. Ok. Dovrebbe coprire, non possiamo dire i nomi ovviamente del collare, dovrebbe coprire anche una piccola parte della famiglia dei parassiti interni, quindi endoparassiti. Che è importante perché stando al potere di sicuro sono a contatto e, se vedo un po', la mia filosofia è quella, cioè garantire il massimo all'animale ma lasciare proprio l'animale vivere da animale, cioè io gli garantisco il fatto che provo a non farli ammalare, quindi abbiamo il collarino, il cibo o altro, però mi piace il fatto che proprio l'animale si comporti da animale, conosca il territorio, giri, scavi, mi rimangerò tutto quando andranno nell'orto, però è secondo me quello lì il compito, nel senso che non voglio un robot, mi piace il fatto che interagiscono con lui. faccia il gatto. Quindi il collarino comunque mi copre un anno? Il collarino copre dai 7 agli 8 mesi, per ovviare al problema che tanti si pongono che magari il gatto si incastra nella recinzione, rimane appiccato, esistono delle pasticche che hanno un effetto di 3 mesi che anche quelle coprono per ecto e endoparassiti. Quindi tutte e due? Si possono usare anche in concomitanza in realtà o semplicemente anche solo la pasticca, non possiamo neanche qua fare i nomi dei vari antiparassitari, oppure la comunissima pipetta che si mette sul collo, ha durato 28 giorni, nei periodi estivi si richiama un pochino prima, però comunque tiene lontani i parassiti. Si, io credo che però sia la pastiglietta che comunque il collarino. E comunque, non so, vedo anche qua le galline, se riusciamo a garantirgli che non si ammalino prima di tutto sono meno scazzi. E poi la miglior roba, nel senso che comunque anche loro sono molto più forti, io ho la fissa. Ascoltami, io ho il vecchio recinto, quello bianco, sto mettendo una foto ora, delle galline. Pensavo la prima settimana proprio per farle ambientare, in modo tale che hanno comunque uno spazio dentro e uno spazio fuori, quindi possono andare a nosare di tenerle lì. Le tengo lì una settimana, cosa faccio? Le apro quando sono lì? Sì, a piccole dosi, quindi che ne so, un'ora al giorno, due ore al giorno e così via. Loro si ambienteranno quindi ai tuoi orari, al tuo arrivo, riconosceranno addirittura la macchina, quindi un domani che loro vivranno comunque liberi all'interno del podere, ti verranno incontro senza problemi perché sanno che tu sei il padrone, gli metti da mangiare e ti curi di loro. Quindi ecco, loro durante la giornata troveranno il modo per sfogarsi, giocare e cacciare e speriamo che facciano il loro lavoro di ammazzatobi. Ma io sono sicuro. Sono sicuro, anche perché è mio... Allora, una è un pochino rinco perché è appena stata operata da pochi giorni, siamo ancora un pochino in modalità guardiga. Esatto. L'altra è... Si è adattata assolutamente. Guarda... Aspetta dai che la prendi. Avvicina la sedia secondo me, piano piano. Vieni? Sì, però puoi fare. Anche lì, se dobbiamo sceglierli proprio a tavoli... Sono comunque... Quanti mesi hanno? Mi hai detto? Hanno più di sei mesi. Perfetto. Quindi comunque sono... Sono gatti adulti. Esatto. Anche qui non abbiamo voluto prendere gattini che sarebbe stata la scelta più ovvia per lui perché comunque il gattino piccolo si abitua, si adatta, è carino, è coccoloso. Anche qui abbiamo scelto l'adozione diciamo un po' più responsabile, quindi adottare un gatto adulto che dà la stessa quantità di amore di un gattino piccolo. Cioè, né più né meno. Poi soprattutto puoi cominciare a lavorare in fretta, vero? Sì, lei è molto sveglia. Anche perché Cristian Benaglio, in fattoria, ma da se... Dopo sai, si parla sempre della colonia in modo negativo di gatti, in verità. Lì c'è un gruppo di gatti, io la chiamo colonia, che... Ascolta però, magari il culo non mettiamolo davanti. Mettiti così che sei più cinematografica, perfetto. E praticamente, certo che ci sono sempre i topi, però sono molto più contenuti. E sono gatti veramente diffidenti, perché sono molto selvatici in quello. Però, cioè io c'ero proprio questa fissa qua. La mia nonna ha sempre avuto gatti, tranquillamente, e hanno sempre cacciato i topi. I miei stessi gatti, che io vivo vivendo a Roma, in città, comunque anche io ho un giardino, ho i gatti, ho anche i topi. I miei gatti cacciano tranquillamente i topi. Ma è nel loro istinto naturale. Cioè, snaturalizzare un animale... Ecco, sentirete le fusa in diretta. È il microfono. Snaturalizzare un animale non ha proprio senso. Cioè, è proprio contro natura. Poi è chiaro, bisogna rispettare sempre il benessere e la salute dell'animale. Quello sempre in primis, assolutamente. Perfetto. Anche perché sennò non te li avrei mai dati. No, allora, prima di tutto li vedrete perché sono parte del ciclo di vita del potere. Secondo me non sono meno delle galline. Quindi io, oltre come compagnia a avere qualcuno un attimino più presente, le galline sono un pochino più diffidenti. Soprattutto le galline che le tengo e amo che siano diffidenti nei miei confronti. Perché sai, anche nei confronti delle galline, io quando vedo il gallo ho visto una scena per cui ammazzato una biscia. Ma veramente anche con una certa, non violenza, però con una certa decisione. E mi piace che mi vedano in modo diffidente. Perché se vedo un diffidente a me, anche tutti gli altri pericoli vedo un diffidente. Dopo riconoscono che quando c'è qualcosa che non va, c'è bisogno di cibo o altro. Riconoscono il mio ruolo, ma il mio ruolo è un ruolo esterno. Loro si fissono la loro gerarchia, un loro equilibrio, dei loro ruoli. Esatto. Non sono io all'apice della loro linea gerarchica. Esatto, esatto, esatto. Per me questa cosa qua è importante perché l'animale crea un rapporto con l'ambiente. Esatto. E io devo solo incentivare questo. E sì, guarda che io però non ti do tutti questi vizietti, eh, sappi va? Io al limite di metto lì il topolino. Ascolta quei pulcini e li faccio vedere di continuo. Esatto, sì. I pulcini, è bene che loro comunque si abituino alla loro presenza perché comunque è sempre un predatore il gatto. Quindi vedrà il pulcino come un tenero uccellino da cacciare. Quindi dovrà vedere il pulcinotto fin da subito. Non ti garantirò quindi l'incolumità del pulcinotto ma sarà il tuo buon senso. Cioè la mia idea era tenere in gabbia dove sono ora i classi pulcini per 15-20 giorni finché sono comunque grandi anche perché ora fa freddo. Esatto. E tutto. Dopo io secondo me vi farò sapere nel senso che vi racconto nel bene e nel male un po' tutto, anche gli errori. È natura, è sempre natura. Se ho qualche domanda naturalmente ti ricontatterò. Chiaro. E li vedrete presenti questa cosa qua e partirà. L'altra è lì sul divano però non lo so, non è... È comodina. Proviamo a prenderla, guardiamo se... Se la tieni in braccio così, secondo me... Parla qua. Loro due non si conoscono, infatti prima si... Si sono dati due alto là. Non stavano molto bene. Dobbiamo dargli un nome, quindi mi raccomando qua sotto vi lascio decidere uno dei due nomi perché uno lo deve decidere la mia figlia. Ok. Andato. Si. Non sa ancora stasera naturalmente, cioè arrivo a casa verso le 8 quindi... Certo. Staranno a casa però e quindi non sa che arrivano i gatti. Vi faccio una sorpresa. Un nome glielo... Glielo lascio scegliere. Glielo lascio scegliere. Un nome è vostro. Niente. Dai, spero che questa avventura vada bene. Io sono molto propositivo. Colore dei gatti incide qualcosa del... Ma in realtà si dicesse che... Si diceva che i gatti tigrati fossero quelli più spiccati e propensi alla caccia. I gatti neri quelli un po' più matti, i gatti bianchi più calmi, i gatti rossi più attivi. Sì, ma in realtà vedremo come si comportano loro. Guarda che tu sei quella un po' più calma, però ti voglio cattiva, cattiva contro i gatti. No? Contro i topi. E se... Oggi sto... Sì, ma anche perché... E' andato. E' andato. E' andato. Niente, questo video si conclude qua. Grazie mille Beatrice. In nulla. Mi raccomando. Quindi, se volete scegliere dei gatti, secondo me la scelta migliore è comunque andarli... Comunque a recuperare. Esatto. In ambienti comunque... Perché, insomma, togliamo un gatto dalla strada. Dalla strada, esatto. Esatto. Cosa che è assolutamente importantissimo. Lo dico anche per le galline sempre. Mai fede a te. Librettini, vaccinazioni... Ci sono dei metodi... Sono state eseguite da medici, sono state curate, vaccinate, sterilizzate. Cioè, sono seguite. Fatevi seguire sempre da un professionista. Non affidatevi al... Primo che trova l'animale per strada, che ve lo dice... Vi dice che è sano, no? L'animale sta bene. No, il gatto va visitato, vaccinato, anche perché il libretto sanitario ve lo può rilasciare solo un medico. Quindi non... Non ci si sbaglia. No, quello è importante, anche perché dopo ha meno problemi in animale. Esatto. E se ha meno problemi in animale, vuol dire che l'ambiente circostante ha meno problemi. Esatto. Vero? Va bene. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!